Per la Clinica Montevergine si è chiuso un anno con risultati straordinari e per il 2024 tante sono le sfide e gli obiettivi da raggiungere, come sottolinea Antonio Rainone, direttore generale della Clinica Montevergine. Siamo riusciti ad avere un livello di assistenza sanitaria molto elevato, siamo andati al di là anche del budget assegnato dalla Regione Campania e siamo riusciti con le nostre procedure, con i nostri interventi di altissima specialità nel mondo del cuore a trattenere i nostri pazienti campani ed a evitare i viaggi della speranza in altre regioni, quindi siamo molto soddisfatti su questo. In più nel 2023 è stato anche un anno importante perché grazie alle nostre politiche siamo riusciti a trattenere i nostri talenti, i nostri talenti sono i nostri operatori sanitari, i nostri medici. La Clinica Montevergine è da sempre attenta alla parità di genere e ha conferma sabato Open Day dedicato alle donne per la prevenzione del tumore al seno. La Clinica Montevergine ha voluto fortemente dotare della struttura di un mammografo di ultima generazione. In più il 27 dicembre siamo stati riconosciuti come centro che ha i requisiti di pari opportunità secondo la normativa UNI DPR 125. La prevenzione è la parola chiave, come sottolinea il dottore Gianluca Spidalieri, che evidenzia l'importanza dell'iniziativa Prenditi cura di te. Prendersi cura di se stessi con la prevenzione, che è fondamentale soprattutto con la mammografia nelle donne. È stata accolta dalle donne, abbiamo fatto 25 mammografie. L'importanza di prevenire è fondamentale perché se preveniamo curiamo sicuramente meglio. La tecnologia è fondamentale? Abbiamo un mammografo di ultimissima generazione che permette non solo di fare immagini standard della mammilla, ma di fare l'attack della mammilla. Ciò significa fare tagli sottili della mammilla e vedere microlesioni che non possono essere viste con un mammografo normale. La tecnologia è fondamentale per il radiologo. Io devo ringraziare sicuramente il gruppo Villa Maria e gli amministratori che sono lungi, miranti e hanno acquistato quest'ultimo mammografo di generazione, di ultima generazione, che è veramente un mammografo digitale con tomosintesi. Grazie.